Preghiera della freccia d'oro al Sacro Cuore di Gesù Questa preghiera è stata dettata da Nostro Signore a Carmelita del Convento di Tours, Francia, Sua Maria di San Pietro. Questa devozione è legata al Santo Volto di Gesù, di cui Sua Maria di San Pietro fu Apostolo. Rivelazioni di Nostro Signore per Sua Maria di San Pietro. E' espressa volontà di Dio che questa devozione sia stabilita in ogni diocesi, che sia propagata con grande zello, dandone ampia divulgazione e darà seguito ad un breve apostolico che non pererà mai. E questa devozione è nata con il duplice scopo di chiedere la remissione della bestegna e la remissione per la profanazione della Domenica e dei giorni di precetto, i due peccati principali che nei nostri tempi provocano l'ira di Dio. Sua Maria disse, mi fece capire che questo terribile peccato ferisce il suo divin cuore più di tutti gli altri peccati e mi ha mostrato come con la blasferia il peccatore. Lo maldice in volto, lo attacca pubblicamente, annulla la sua redenzione e pronuncia la sua propria sentenza e condanna. Il salvatore mi fece capire che la sua giustizia era molto irritata contro l'umanità per i suoi peccati, in particolar modo per quelli che oltraggiano direttamente la maestà di Dio, ovvero il comunismo, l'ateismo, la bestendia e la profanazione della Domenica e dei giorni di precetto. Egli disse, i carnetici mi crocifissero il venerdì, i cristiani mi crocifigono la Domenica. Prediera della freccia d'oro, per posizionare il cuore di Gesù al centro del tuo cuore. Sia sempre lodato, benedetto, amato, adorato e glorificato, il Santissimo, il Sacratissimo, l'Adorabilissimo, l'incomprensibile ed inesprimibile nome di Dio in cielo, sulla terra e sotto terra, da tutte le creature di Dio, per il sacro cuore di nostro Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Amin. 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 Amin.